La mia esperienza qui in Caritas è cominciata circa tre anni fa ed è nata dalla necessità di portare ciò che normalmente sono abituato a fare musica e didattica al di fuori di certi ambienti che diciamo quegli ambienti da cui vengono esclusi normalmente certi bambini. I nostri bambini sono quelli che vengono considerati gli esclusi, sono quelli che vengono etichettati, sono quelli che hanno i soprannomi, sono i figli di, sono le famiglie di. Bene, qui dentro non esistono etichette, non esistono stigmatizzazioni di questo tipo e questa è la regola che condividiamo sia con gli operatori che con le persone che vengono accolte. La Casa di Santa Luisa ha rappresentato per Terlizzi un'occasione, un'occasione per i minori e per le loro famiglie. Per noi operatori sociali è stata un'esperienza professionale importante in quanto ci ha dato la possibilità di dare, offrire un servizio il più possibile appunto professionale per i minori di questo centro, fornendo a loro non solo la mensa, il sostegno scolastico e le attività ludico-ricreative del pomeriggio, ma anche dei validi percorsi di sostegno alla genitorialità con il sostegno appunto di uno psicoterapeuta. Io faccio dopo scuola e laboratori. Il mio percorso in Caritas è iniziato quando frequentavo il secondo liceo, anno di liceo e quindi quando avevo 15 anni. Io in quanto logopedista mi occupo di disturbi e difficoltà dell'apprendimento. È stato all'inizio un'entrare veramente in punta di piedi per farmi conoscere e farmi accogliere da questi ragazzi. Dopo una prima fase appunto conoscitiva di valutazione, ho intrapreso con loro un vero e proprio percorso logopedico, cercando di potenziare le loro abilità di lettoscrittura. Entrare a far parte di questo mondo è stata una scoperta e io la definisco un innamoramento. Ogni volta che sono a contatto con i bambini, che li ascolto, che ci parlo, che ci gioco, anche il solo fatto di guardarli mi rassicura, mi rende serena ed è emozionante tutte le volte. Io dico sempre che questa esperienza ha portato a Terlizzi un nuovo modo di accogliere le persone e di tutelare le loro ragioni. Noi ci siamo ritrovati così sicuramente per via dell'entusiasmo e della passione che ci caratterizzava a essere chiesa, però ci hanno anche preso per mano tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno creduto in noi, fino ad arrivare appunto all'otto per mille. È stata bellissima la telefonata avuta in luglio del 2014, quando ci annunciavano che il nostro progetto era stato ritenuto valido, ammissibile e finanziabile. È cominciata da lì un'altra grande festa, che ha visto come invitati, partecipanti, attori, protagonisti, principalmente i bambini e le loro famiglie, e tutti i nostri volontari, che nel tempo sono addirittura aumentati. Nel progetto Casa Santa Luisa, qui a Terlizzi, abbiamo realizzato tutto questo, grazie all'impegno di volontari, di uomini e donne, che giorno dopo giorno, nelle varie attività, nei vari momenti interni alla struttura, ma anche esterni, il calcetto, il teatro, i ragazzi sono riusciti a riacquistare, a riprendere in mano la propria vita, sapendo di avere accanto degli amici. Grazie a tutti!